Musica Ho scritto questo libro soprattutto perché rifiuto l'idea della maggior parte dell'opinione pubblica nazionale che la Calabria sia la terra del male, una terra irredimibile, una terra persa questa è una menzogna storica e questo libro nasce proprio da questo rifiuto non si possono nascondere i tanti mali di questa regione, i mali della Calabria però è bene comunicare anche quella che è la storia, quelli che sono i valori, quelli che sono le tradizioni quella che è la cultura della Calabria c'è questo bisogno di riconciliare l'Italia facendo conoscere meglio la Calabria e non è difficile amare questa regione basta scendere, conoscerla e innamorarsi di quello che è la sua grande tradizione la cultura e i valori che ancora questa terra conserva L'idea che abbiamo presentato questa sera è quella di far diventare la strada delle Calabria tutta la strada delle Calabria, dalla Campania al Reggio Calabria un'infrastruttura monumentale dove per infrastruttura monumentale si intende una valorizzazione di questo percorso perché non solo possa attrarre molti turisti ma perché attraverso il suo aumento di qualità possa essere anche un luogo migliore per i cittadini e possa attrarre maggiori risorse Grazie